Salve a tutti! Bentornati su Motorviani, oggi dalla fiera di Arezzo, la fiera che si svolge ogni anno per la compra e vendita di auto, moto e pezzi di ricambio. Non potevo mancare di catturare questa Prince, anni 70, perfettamente conservata, restaurata naturalmente, in vendita, con tanto di ghirlanda di fiori. Un'auto molto in voga negli anni 70, molto diffusa a Firenze, se ne vedevano moltissime di queste auto. Un'auto criticata, o criticata, o odiata, o molto amata. L'auto proprio del vicino di casa, che è che non ha avuto una Prince. E' finita anche da alcuni in passato la vasca da bagno, impropriamente secondo me, perché secondo me aveva il suo bel valore. A me non dispiaceva affatto, un gusto mio personale. Dopo questa bella cattura, la dedico a tutti voi. Ciao a tutti, carissimi frequentatori del canale di Motorviani. Ciao a tutti, dalla vecchia Gio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.